Presenta Merci, fuori tavoletta, dentro un'invitante varietà di squisiti cioccolati in carta oro pronti da offrire. Contro un'occasione, non lasciarti la sfuggire, ogni attimo è una gioia pienamente da gustare. Un Merci? Che idea! Tondente! Al caffè! Alla nocciola! Per me al latte! Anch'io dico sì a Merci! Merci, i cioccolati nuovo stile, in tanti gusti per tutti i gusti. E' un'altra idea Lazzarone.